Francesco Sio di Frestad, presento subito i nostri ospiti per questo webinar pre-pasquale dedicato al tema cyberbullismo. Il professor Marcello Rocca, grande esperto di tematiche, professore e formatore, trainer a livello nazionale, uno dei principali attori del piano nazionale della scuola digitale e ripresento, anzi ritorno con noi l'ingegnere Riccardo Sbaraglia che comincerà questo nostro webinar che si artiguerà in tre parti, comunque tutto durerà 60 minuti, prima parte cercheremo di capire il fenomeno e anche di inquadrare la problematica a livello tecnico. Poi dopo con Sbaraglia, poi dopo con il professor Marcello Rocca invece parleremo dell'impatto sociale e della sinergia tra scuole insegnanti, ragazzi che anche oggi comunque ci stanno seguendo e anche famiglie per cercare di vincere il fenomeno, oppure comunque possiamo tentare di mitigare il fenomeno del cyberbullismo. Per la chat, per le domande, e c'è una chat a disposizione, quindi comunque cercheremo alla fine di un intervento oppure comunque alla fine di tutto insomma cercheremo di darvi spazio. Cominciamo subito con la slide, vi chiedo solo un feedback sulla chat se ci sentite correttamente e se posso, posso cominciare con l'intervento di oggi. Chiedo un feedback? Bene, possiamo cominciare? C'è Andrea? L'avanzamento? Comunque è disponibile, sì. Per l'avanzamento utilizziamo i passi in mouse, subito allora. Intanto cominciamo? Bene. Allora, intanto conosciamo cos'è tecnicamente il fenomeno del cyberbullismo, neanche conosciamo l'ingegner Giorgio Sbaraglia, grande appassionato di informatica e come lui si definisce, Sbarnetto, ti lascio la parola. Grazie Francesco, mi presento, qui vedete la mia slide di presentazione, mi occupo a tempo pieno di cyber security come formazione, come consulenza. Oltre a questo svolgo attività di data protection officer per alcune aziende, qui stiamo parlando del regolamento privacy, del GDPR. Sono socio del Clusit, che è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, il maggiore ente in Italia che si occupa di cyber security, che ogni anno redige un importante rapporto, il rapporto Clusit, che chiunque può scaricare dal sito del Clusit, che raffigura lo stato della cyber sicurezza, o sarebbe meglio dire della cyber e sicurezza in Italia. Scrivo anche per quelle due testate che vedete linkate sotto, dove potete trovare i miei articoli su questo tema. Procediamo, questi sono i libri che ho scritto, il primo si occupa di regolamento privacy, GDPR appunto, il secondo è un testo un po' più corposo, che tratta la cyber security a 360 gradi, sono disponibili su Amazon e anche nelle librerie e a questo punto, finita questa brevissima presentazione, vi risaluto e cominciamo a parlare. Vorrei iniziare citando un personaggio famoso che forse qualcuno di voi conosce, Kevin Mitnick, detto il Condor, è stato probabilmente il più grande hacker della storia. Il suo libro, The Art of Deception, che trovate anche in italiano, si chiama L'arte dell'inganno, scritto nel 2002, è un libro dove questo signore, Kevin Mitnick, racconta come faceva a fregare le persone usando il fattore umano, cioè questo signore, Kevin Mitnick, che ripeto è stato un hacker che ha fatto scuola, che ha creato le tecniche di social engineering, quelle attraverso le quali ci fregano con un'email piuttosto che con una telefonata, bene, questo signore scrive nel suo libro che il fattore umano è veramente l'anello più debole della sicurezza e visto che su questo fattore umano lui ci ha costruito una carriera, dobbiamo crederci. Dobbiamo credergli. Il personaggio oggi è passato, dopo essere stato anche condannato per aver acchierato tutti i siti più importanti del mondo, soprattutto quelli della pubblica amministrazione americana, oggi si occupa di cyber sicurezza e con particolare riguardo al fattore umano. Il fattore umano sarà un po' l'anello, il filo conduttore anche della giornata di oggi, perché soprattutto quando parliamo di cyber sicurezza e soprattutto di cyber bullismo, quello dove le persone vanno a cadere e dove le persone vengono poi, passatemi il termine, fregate, è proprio sulle debolezze del fattore umano. Procediamo? Ecco, oggi noi viviamo immersi, totalmente immersi nel web e questa immersione è ancora più forte per i giovani. Purtroppo noi tendiamo a dimenticarci che quello che viviamo nella rete, la rete come questo ecosistema virtuale, in realtà tutto ciò che è in rete è reale. È reale come sono reali i reati che noi possiamo commettere in rete. Il reato di diffamazione, anche se commesso sul web, è assolutamente perseguito dalle normali norme del codice penale. Questo spesso lo dimentichiamo, così come ci dimentichiamo che su internet non tutto è quello che sembra. Molte volte noi pensiamo di fare delle cose su internet, pensiamo di essere in comunicazione magari con un amico o con una bella ragazza, in realtà dall'altra parte ci può essere chiunque e magari quel chiunque è lì che sta cercando di fregarci. Non dimentichiamo poi l'approccio che noi abbiamo, altamente insicuro purtroppo e altamente ingenuo, che molte persone hanno, in questo senso i giovani ancora di più, con i social network o, come sarebbe più corretto dire, i social media. Quando parlo di social media mi riferisco ovviamente a Facebook, a Instagram, a LinkedIn. Possiamo far rientrare in questo mondo anche i sistemi di messaggistica istantanea che sono comunque vicini ai social media, che sono i vari WhatsApp, Telegram eccetera, perché comunque vengono usati, anche questi spesso in maniera molto impropria e combinando purtroppo spesso dei grossi guai. Non dimentichiamo, scusate il gioco di parole, che quello che noi facciamo nei social media non viene mai dimenticato e questi strumenti purtroppo non perdonano i nostri errori. Ecco, perché dico questo? Perché io facendo formazione in tutta Italia praticamente tutti i giorni noto proprio che c'è questa dissociazione tra il mondo reale e il mondo della rete, cioè chi usa la rete spesso perde la comprensione del confine che la rete ha con la vita reale, cioè quello che io chiamo manca la percezione del baratro. Noi pensiamo alla rete come un mondo diverso, un mondo a sé stante dove i rischi reali non esistono e quindi siamo portati a sottovalutare questi rischi e addirittura a pensare che a infrangere le regole del vivere civile in rete non porti dei rischi. Come ho detto prima, i reati del nostro codice penale, la diffamazione piuttosto che il diritto d'autore valgono alla stessa maniera anche se noi li commettiamo in rete. Questo è un problema che non va sottovalutato e che invece i nostri giovani, soprattutto i giovani, sottovalutano. Anche perché qual è il problema? Che noi pensiamo alla rete come un mondo diverso e questa diversità è sentita in maniera ancora più forte dai ragazzi. Le persone della mia età e anche dell'età del professor Rocca hanno conosciuto la rete quando erano già grandicelli e quindi ancora oggi, io credo, e il professore mi potrà confermare nel suo intervento, la viviamo con un poco di sana diffidenza. Non è nata con noi la rete. Bene, invece i nostri figli, i cosiddetti nativi digitali, e su questo ci sarebbe molto da dire, bene, i nativi digitali sono invece portati a considerare la rete come l'acqua nella quale i pesci navigano, nella quale i pesci nuotano e quindi la vivono come qualcosa di normale, di scontato, dimenticandosi che invece è un mondo che ha una serie di problematiche importanti. Ecco, dicevo, queste problematiche si riflettono poi nel fatto che i social network, i social media non perdonano. Non è questa la sede per soffermarsi più di tanto, ma mi permetto di raccontarvi un paio di aneddoti che hanno fatto scuola. Questa signora, Justin Sacco, nel 2013, sta per partire, sta per prendere un aereo dall'America con direzione Città del Capo. È un personaggio importante, ha un ruolo di dirigente e capo delle pubbliche relazioni in una società importante, quotata in borsa. Bene, questa signora, mentre sta per prendere l'aereo, fa questo tweet. Sto andando in Africa, spero di non prendere l'AIDS, sto scherzando, io sono bianca. Bene, questo tweet apparentemente banale, scritto magari anche sovra pensiero, le ha portato un sacco di guai. Quando questa signora, dopo nove, dieci ore di aereo, è atterrata a Città del Capo e ha riacceso il suo smartphone, la prima cosa che ha letto è stato un messaggio di tre parole. You are fired. Tu sei stata licenziata. Questo breve messaggio di due righe le ha cambiato la vita, perché questo messaggio, che nel tempo del viaggio aveva girato in rete, l'ha portata ad essere licenziata. Quindi, attenzione, per questo è un esempio classico. Ripeto, ha fatto scuola e poi questa signora ci ha scritto sopra anche un libro per raccontare la sua disgrazia. Bene, questo messaggio ci prova come i social network non perdonano mai e non si dimenticano mai di quello che noi facciamo. Alla stessa maniera, un altro episodio, questo è successo durante le Olimpiadi del 2016, dove le ragazze del tiro con l'arco, conosco bene il tema perché anche io ho fatto tiro con l'arco, hanno rischiato di, come dice il titolo, di sfiorare il miracolo olimpico e di vincere una medaglia di bronzo alle Olimpiadi. Il Carlino, l'edizione sportiva del Carlino, ha avuto la brillante idea di fare questo titolo, il trio delle cicciottelle sfiori il miracolo olimpico. Bene, in altri tempi, questo articolo sarebbe finito con qualche risata, una lettera risentita da parte della federazione di tiro con l'arco e poco altro. In epoca di social media, questo articolo ha scatenato un pandemonio. Tant'è vero che il direttore del quotidiano sportivo del Carlino, Giuseppe Tassi, e lo vediamo qui da questo post di scuse che ha dovuto fare, è stato addirittura rimosso, perché questo titolo è diventato virale, ha scatenato una marea di proteste e Giuseppe Tassi è stato licenziato, poi dopo alla fine in realtà è stato riassunto, ma insomma ha rischiato il posto. Vedete, tutto questo serve per farci capire che nei social media noi facciamo delle cose pensando di vivere in un mondo a parte, in realtà noi stiamo facendo, vai avanti, stiamo facendo qualcosa che impatta con la vita reale e anche in questo senso non dobbiamo mai dimenticare, ripeto il gioco di parole, che i social non dimenticano mai. Il GDPR, il nuovo regolamento della privacy, ha introdotto all'articolo 17 il diritto all'oblio, quindi noi abbiamo diritto che i nostri dati personali vengano cancellati, ma questo è un diritto più virtuale che reale. Noi sappiamo bene e se non lo sappiamo dobbiamo impararlo in fretta che scomparire dalla rete è praticamente impossibile. Tutto ciò che noi facciamo, per esempio un tweet inopportuno, rimarrà perché ci sarà qualcuno che se anche noi magari ci rendiamo conto di aver sbagliato e cancelliamo quel tweet o quel post, ci sarà qualcuno che avrà fatto uno screenshot, una frase sbagliata, un'affermazione a carattere razzista, un'affermazione offensiva, lascerà una traccia e quella traccia potrebbe, e qui mi riferisco in particolare ai giovani, avere un impatto estremamente negativo anche sul nostro futuro, perché oggi non dimentichiamoci che i social, io collaboro anche con delle società che fanno ricerca del personale, i social sono usatissimi per fare le ricerche di lavoro. Quindi un ragazzo che andasse a fare un colloquio di lavoro deve dare per scontato che quando si presenterà e si siederà davanti al suo potenziale datore di lavoro, questo avrà già guardato accuratamente i suoi social, il suo profilo social, LinkedIn, Facebook e quello che è, e qualunque cosa questo ragazzo avrà detto magari a distanza di anni addietro, ritornerà, quindi fate molta molta attenzione. Questo è un effetto di quello che oggi è il web, quello che io ho chiamato il web 2.0. Il web è scalabile, quindi si può diffondere all'infinito, è un mondo che non ha confini, un po' come l'universo, è persistente perché nulla viene perso, non dimentichiamoci. Anche un post cancellato lascerà delle tracce, anche perché c'è la replicabilità, qualunque cosa, di qualunque cosa si può fare copia e si può condividere. Non solo, qualunque cosa può essere ricercata. Abbiamo conosciuto tutti la facilità con la quale Google è in grado di trovare, di trovare qualunque ricerca che noi facciamo. Non è facile sparire dalla rete, quindi è molto importante, e qui mi riferisco soprattutto ai giovani, sapere che qualunque cosa noi andremo a dire, o qualunque traccia noi lasceremo in rete, qualcuno la potrà trovare. Ecco, faccio una breve parentesi su alcune delle tante distorsioni che genere il web e ripeto, sono distorsioni legate dal fatto che molte volte noi pensiamo di vivere in un mondo parallelo dove non vengono applicate le regole del vivere civile e ancor meno le regole del codice penale, del codice civile. Ecco, una delle distorsioni del web che colpisce molto spesso nelle fasce giovanili è il sexting. Sexting è una parola che deriva dalla fusione, una crasi, come si dice, dalla parola sex e texting, cioè l'invio di messaggi, messaggi elettronici, quindi messaggistiche istantanea, che contengono testi o immagini sessualmente espliciti. Questo è diventato purtroppo un tema diffuso tra i giovani, i giovani lo usano in maniera distratta, quasi pensando di giocare, in realtà non si rendono conto che questo può portare a dei problemi gravi, problemi che vanno a impattare anche sul codice penale, perché nel momento in cui io faccio girare delle immagini di un amichetto o più facilmente di un amichetta in pose sconveniente o in pose al limite del sessualmente esplicito, io posso incorrere in reati. Uno dei più gravi di questi reati è la pedopornografia. La pedopornografia che è considerata un reato grave quando coinvolge persone al di sotto dei 18 anni. Una legge che qui ho citato, la numero 38 del 2006, parla proprio di questo. Non è vero che questo problema del sexting coinvolga solo i giovani, anzi ci sono casi famosi tra cui un politico americano, Anthony Weiner, un politico che aveva una brillante carriera, che si divertiva a postare sui social sue immagini più o meno esplicite. Bene, con questo gioco, questo politico si è bruciato la sua carriera e oggi è sparito. Arriviamo dunque a quello che è il fenomeno del cyberbullismo. Il bullismo possiamo dire tranquillamente che sia sempre esistito, è connaturato con la natura umana e quindi esisteva anche quando io ero un ragazzino e ci trovavamo per strada a giocare. Cos'è cambiato oggi? È cambiato, e qui si aggiunge la parola cyber davanti alla parola bullismo, è cambiato tutto perché per effetto della rete noi oggi abbiamo un effetto moltiplicatore devastante. Prima un evento di bullismo sarebbe rimasto confinato all'interno di un bar, di una comitiva, di un gruppo di ragazzi, oggi si può propagare in rete e come ho detto la rete è assolutamente priva di confini quindi può girare dappertutto. E oggi, questa è una statistica fatta dal Censys, non è recentissima quindi posso pensare che questo numero, il 91% sia addirittura in crescita, oggi i cosiddetti teenager, cioè quei ragazzi che hanno l'età tra 14 e 18 anni, sono per il 91% presenti, cioè iscritti ad almeno un social media. Facebook, anche se oggi Facebook è sempre più diffuso tra i grandi, è sempre meno presente tra i ragazzi, Instagram, Snapchat, eccetera. Bene, questa diffusione che di per sé non è censurabile porta comunque al fatto che dobbiamo capire che questo uso di questi strumenti va fatto con una certa attenzione, cosa che purtroppo non è. E qui non è, non voglio essere provocatorio, ma un po' sì, quando io penso ai ragazzi e penso che li chiamiamo con un'affermazione, con una frase che è quasi a mio parere una leggenda metropolitana, li chiamiamo nativi digitali, ecco forse stiamo dicendo qualcosa di sbagliato. Nativi digitali perché? Perché sono bravi a maneggiare questi strumenti informatici, sono nati con il touchscreen, toccano qualunque cosa pensando che sia touch, sono velocissimi a digitare i messaggi quando scrivono WhatsApp, ma in realtà il fatto di essere immersi, di essere nati immersi nella tecnologia non significa, e lo vediamo tutti i giorni, che ne siano degli utilizzatori consapevoli. Anzi, molte volte questo utilizzo è fatto in maniera inconsapevole. Questa inconsapevolezza, credetemi, nasce proprio dal fatto che io ho una figlia in età teenager, quindi vedo anche, vivo anche di persone questo fenomeno, questa convinzione di saper fare, di essere nativi digitali, perché noi grandi glielo diciamo, li trattiamo come degli esperti del web, in realtà li porta a essere bravi nella pratica, nella manualità, ma pochissimo attenti perché manca, come a qualunque giovane manca, una certa attenzione alla conoscenza dei rischi, conoscenza che poi si acquisisce con l'esperienza. Andiamo avanti? Bene, a questo punto arriviamo a quello che il cyberbullismo porta come rischi informatici. Nel momento in cui io attivo un profilo social o uso una messaggistica istantanea, io non mi devo dimenticare che se faccio questo in maniera disattenta e ripeto, i giovani che si credono nativi digitali sono portati a fare queste cose in maniera disattenta, io rischio di commettere alcuni errori, errori banali che possono esporre me e le persone a me vicine a rischi importanti. Ne cito solo alcuni che fanno parte poi della mia abituale formazione in aula, che sono per esempio la scarsa protezione dei propri account. Io vedo spessissimo ragazzi che si fanno violare, si fanno rubare le password perché magari le hanno messe facili o magari perché le password di accesso ai propri social magari le hanno messe deboli, le hanno messe facili, le hanno messe con il nome del loro cantante preferito, questo è un fatto che è veramente accaduto, o del loro amico o del loro ragazzo, dopodiché non solo le mettono deboli ma magari le comunicano ai loro amici e non solo lasciano i telefoni incustoditi permettendo ad altri di accedere ai propri social con le proprie credenziali. Vi potrei raccontare di caso dove questo ha generato, perché purtroppo tra i ragazzi delle volte si fanno scherzi pesanti pensando di giocare ma poi si finisce come è successo, questo è un caso realmente accaduto che è finito all'attenzione della polizia postale, si finisce per magari prendere lo smartphone dell'amico o dell'amichetta, entrare nel proprio nel suo profilo facebook perché questo l'ha lasciato incustodito e postare, ripeto è un fatto realmente accaduto, postare delle cose estremamente offensive verso una professoressa. È successo un incidente importante che ha generato l'intervento della polizia postale. Quindi, e vado verso la conclusione della mia parte, è molto importante evitare queste cose, perché queste cose, queste disattenzioni che sembrano apparentemente banali, banali perché rispetto a una cosa che noi abbiamo forte nel nostro DNA, la protezione della nostra casa, ecco nessuno lascerebbe la casa aperta o uscirebbe lasciando la chiave sulla porta, perché abbiamo un senso di protezione forte, come ho detto, bene, quando noi navighiamo nel web e quando noi usiamo i social non abbiamo la stessa attenzione e se qualcuno riesce a cedere ai nostri profili, perché gli abbiamo lasciato la password o perché l'abbiamo messa banale, questo qualcuno gira in rete spacciandosi per noi. Questo si chiama furto d'identità ed è, oltre che essere un reato, è un incidente che può generare eventi piuttosto gravi. Il furto d'identità, il laboratorio CRIF, che è una società italiana che si occupa di rischi interbancari, lo tratta, lo censisce, ogni anno si verifica in Italia in misura di 25-26 mila casi, con dei danni economici importanti, non colpisce solo i giovani, ma è particolarmente forte all'interno del mondo giovanile, perché i giovani sottovalutano questo rischio. Ripeto, avere qualcuno che navighi in rete a nome tuo è una cosa pericolosissima. Proteggete i vostri account, non date il vostro telefono a chiunque, non lasciate il vostro telefono privo di una password di protezione. Oggi poi con i dispositivi dotati di controlli biometrici, il touch, il touch ID, il face ID, è abbastanza facile proteggerli, ma io vedo ancora purtroppo tanta gente che non usa questo. E con questo concludo, ricordandovi che la pulizia postale, che è un servizio estremamente efficiente, dotato di personale estremamente capace anche dal punto di vista informatico, vi può aiutare anche una pagina Facebook dove dà utili consigli, ai quali si può fare riferimento e alla quale polizia postale ci si può rivolgere, perché tutte queste cose, lo ripeto e questo conclude il mio intervento, se anche prodotte generate, fatte sul web, sono comunque reati che vanno combattuti e vanno contrastati. Non lasciamo che questo mondo venga vissuto come una giungla al di fuori delle regole della società civile. E con questo concludo, lascio qui i miei contatti, potete trovare molte di queste cose anche sul mio sito, georgiosbaraglia.it, come anche sui miei libri. A questo punto vi ringrazio e passo la parola alla collega professor Rocca. Bene, grazie, grazie all'ingegnere Giorgio Sbaraglia che dopo tornerà con noi per le domande finali, intanto vi ridò ancora il buongiorno e siccome qualche amico è comunque entrato comunque in ritardo, quest'oggi è Flash Start, piattaforma e leader per il filtraggio e la sicurezza e l'amministrazione del web. Vi sto offrendo, stiamo parlando di cyberbullismo, stiamo parlando sia del fenomeno e anche della parte tecnica, ma anche adesso cerchiamo insieme al professor Marcello Rocca, esponente per il piano nazionale della scuola digitale e grande appassionato di informatica da diverse, 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 sei ancora giovane? I capelli bianchi. Allora, come ho scritto nella mia biografia, ma credo che quello che dice, quello che fa Marcello ci accomuni, siamo smanettoni fin dalla nascita, ma non dalla nascita dei computer, perché quando siamo nati noi i computer non esistevano proprio, ma da quando sono nati i computer, abbiamo iniziato ancora ai tempi del DOS a giocarci e a fare un po' di casino. Allora, cominciamo con il nostro secondo intervento che sarà più sul piano sociale, anche di sinergia, scuola, insegnanti e famiglie, dopodiché in cinque minuti alla fine, mentre risponderete al nostro sondaggio per capire e anche valutare i nostri contenuti, vi parlerò di Flash Start e di come tecnicamente può, credo, in modo fattivo e anche comunque aspettando migliaia di scuole sparse un po' in tutto il mondo. Chiaramente c'è anche uno spazio per le vostre domande, io adesso passo la parola al professor Marcello Rocca, da vicino comunque il microfono, ti apro la tua presentazione che tu potrai poi cambiare come slide. Prendo il file ed eccoci qua. Ok, allora, innanzitutto mi presento, la mia attività è nata parecchi anni fa nel mondo della scuola, io sono un insegnante, ormai in pensione da due anni, magari farò invidia qualche collega che mi sta ascoltando, sì, esistono ancora gli insegnanti che vanno in pensione e in questi anni ho partecipato come formatore al piano nazionale della scuola digitale per l'Emilia Romagna e mi sono specializzato soprattutto su un progetto che si chiama appunto il progetto per un web sicuro, progetto che è nato a Roma diversi anni fa per l'intervento del Moice, il Movimento Italiano Genitori e della Polizia Postale. Ho partecipato a dei corsi di formazione e in questo modo mi sono specializzato per presentare il problema dell'utilizzo dei social, del web, anche un pochettino più in generale, all'interno delle istituzioni scolastiche. Faccio, realizzo siti web per alcune scuole della mia zona, fra l'altro mi piace molto smanettare, come diceva prima il collega, con Joomla, un CMS che mi permette appunto di realizzare siti web. Partiamo adesso subito, io direi che mi collego immediatamente a quanto ha detto il collega nella sua presentazione. Partiamo da un aspetto fondamentale che molto spesso viene dimenticato, il cyberbullismo è un reato, è un reato sotto ogni aspetto. Mentre prima il bullismo era un qualcosa che rimaneva racchiuso in un ambiente, in una stanza, il cyberbullismo viene a una diffusione capillare nel mondo del web e questo porta veramente a realizzare situazioni in cui si possono verificare casi di reato, reato che a secondo del concetto che noi diamo a questa parola, si possono dividere secondo il codice penale, il nostro codice penale, il cyberbullismo possono essere percosse, lesione personale, ingiurie, diffamazione, violenza privata, minacce, danneggiamento. Quindi sono tutte quelle, quei comportamenti che sono penalmente rilevanti in una situazione legata appunto al bullismo e al cyberbullismo. Questo è uno degli aspetti che i nostri ragazzi, io chiaramente parlando di cyberbullismo parliamo di minori che mettono in atto azioni nei confronti di altri minori. Quindi è un discorso legato nell'ambiente della scuola ai nostri ragazzi e molto spesso non si rendono conto di quello che fanno proprio perché il bullo vive la sua azione fuori dal contesto diretto nei confronti di chi subisce. Nel senso che magari nella sua camera, dopo aver ripreso un atto che all'inizio era solo appunto di bullismo, lo posta in un social network e questo avviene senza che il cyberbullo si renda conto dei danni che questa cosa può portare. Abbiamo purtroppo nelle notizie che ci giungono spesso dalla televisione, dai giornali, tantissimi casi in cui azioni di cyberbullismo hanno portato a conseguenze anche gravi, addirittura a suicidi di ragazzini e di ragazzine che hanno subito attacchi in questo campo. Quindi è chiaramente un aspetto da tenere in considerazione collegato al fatto che appunto viviamo questo aspetto senza renderci conto che si commettono dei reati. Uno delle situazioni che può costituire una violazione, il cyberbullismo costituisce senz'altro una violazione del diritto privato, quindi è un illecito di tipo civile, del codice penale, quindi può essere un illecito penale, del codice sulla privacy, oltre ai fondamentali della Costituzione. Io ho iniziato a proporre nelle scuole nelle quali io faccio questi interventi il famoso, dico famoso perché ormai è abbastanza conosciuto, manifesto della comunicazione non ostile. È un bellissimo manifesto che si trova comunque in rete, quindi con una ricerca, con un qualunque motore di ricerca mettendo manifesto della comunicazione non ostile, si trova questo manifesto dove vengono appunto riportati dieci paradigmi che spiegano un pochino come l'utilizzo in modo errato non solo nel web, quindi anche nella comunicazione fra persone può portare a situazioni anche sgradevoli, anche pericolose e quindi è importante tenere in considerazione questo aspetto. Ok, il più delle volte l'atto del bullismo va contro sia la legge penale e sia quella civile e quindi in questi casi si possono avere dei processi, quindi dar vita a dei processi sia di tipo penale sia di tipo civile. Chiaramente adesso noi andremo a valutare queste situazioni all'interno di un ambiente come può essere quello della scuola e quindi affrontando l'aspetto legato se mi aiuti Francesco sul... ok sì... ecco legato alla... no è quella dopo... ecco benissimo... legato alla... alla culpa in vigilando e la culpa in educando. Ecco su questo aspetto io mi soffermo un pochettino di più perché parlando di ragazzi... diciamo partiamo da chi ha compiuto i 14 anni, cioè chi ha compiuto i 14 anni e mette in atto appunto un'azione di bullismo, di cyberbullismo può essere imputabile sia dal tipo... dal punto di vista personale, però bisogna tenere sempre conto dell'aspetto legato alla imputabilità dei genitori, in quanto i genitori sono imputabili per culpa in educando e culpa in vigilando. La culpa in educando non va a diminuire in base all'età dei ragazzi, ma è una costante fino chiaramente al compimento dei 18 anni, mentre la culpa in vigilando è chiaramente più il ragazzo cresce di età e più questa colpa va a diminuire. Però abbiamo poi l'aspetto legato alla scuola. È importante sottolineare che nel momento in cui un ragazzo viene affidato a un tutore, a una scuola, agli insegnanti, la famiglia non ha più responsabilità per quanto riguarda la culpa in vigilando, però la culpa in educando rimane in assoluto. Quindi tutte le azioni che vengono messe in atto all'interno di un istituto scolastico vengono comunque valutate, imputabili ai genitori per quanto riguarda la culpa in educando, ma alla scuola per quanto riguarda la culpa in vigilando. In quanto i docenti, gli insegnanti hanno la responsabilità di controllare che all'interno del loro istituto non si verifichino questi fatti. Ricordo che questo viene allargato chiaramente anche a gite scolastiche, manifestazioni di tipo sportivo, uscite didattiche, cioè tutte quelle attività in cui il minore è sotto la sorveglianza della scuola. Ok, allora, parliamo adesso invece del, visto che purtroppo i casi di cyberbullismo e di bullismo si verificano anche in scuole primarie, io ho avuto situazioni in cui sono intervenuto in classi di quarta, quinta elementare, prima, seconda e terza media, quindi classi dove i ragazzi non hanno compiuto i 14 anni di età. Bene, in questo caso non è, il minore chiaramente non è imputabile dal punto di vista personale, quindi non può subire degli interventi dal punto di vista personale, però i genitori saranno tenuti al risarcimento degli eventuali danni per culpa in educando e culpa in vigilando e per la scuola rimangono gli stessi aspetti descritti prima, cioè la scuola è sempre imputabile per la culpa in vigilando nei confronti di ragazzini, anzi più i ragazzini sono piccoli, hanno un'età bassa, più questa culpa può essere maggiore per quanto riguarda la vigilanza. Ok, a questo punto parlerei un attimo della legge, la legge 71 del 2017, fino a qualche anno fa, prima dell'entrata in vigore di questa legge, il cyberbullismo viveva in una specie di limbo dal punto di vista giuridico, nel senso che non c'era una vera e propria indicazione su come affrontarlo sia dal punto di vista della prevenzione, ma anche proprio del contrasto. Dalla legge 71 del 2017, con le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, indicano in modo molto molto chiaro i ruoli che ha la scuola, quindi i ruoli della scuola all'interno per affrontare questo problema. Ruoli che sono di carattere, devono essere di responsabilità e tutte le azioni utili al fine di gestire e prevenire e in alcuni casi purtroppo anche sanzionare i casi di cyberbullismo. La legge 71 ha avuto un impatto secondo me importante all'interno della scuola, innanzitutto perché le linee guida che ho appena detto devono portare la scuola alla formazione del personale, cioè il personale scolastico deve essere formato dal punto di vista sia sociale sia anche giuridico per quanto riguarda l'aspetto del cyberbullismo e sviluppare quelle che sono le competenze digitali dei docenti. Purtroppo la scuola ancora ha dei grossi, io li chiamo buchi neri, nel senso che spesso gli insegnanti non sanno, non dico usare un computer perché ormai il computer lo sappiamo usare tutti, ma non sanno affrontare l'utilizzo di un computer, di una connessione a internet ad esempio con una proiezione su una limba all'interno di una classe con dei ragazzi, quindi sviluppare proprio quelle che sono le competenze digitali dei docenti. Promuovere in modo attivo anche l'attività che deve avere lo studente e degli studenti in questo nuovo mondo, quindi renderli più attivi all'interno delle attività di promozione contro il cyberbullismo. Alcuni mesi fa ho partecipato a un incontro molto interessante a Milano dove hanno presentato veramente dei progetti secondo me belli, dove gli stessi ragazzini con l'appoggio di tutor preparano degli incontri con i compagni, con le altre classi presentando il problema del cyberbullismo e alla fine fanno un incontro con tutti i genitori. Il vantaggio è proprio, io noto che quando vengono chiamati i genitori da una persona esterna vengono con una certa diffidenza, quando invece questi incontri vengono organizzati dagli alunni, dai loro figli, beh c'è una maggiore partecipazione, quindi ci sono proprio tutta una serie di attività promozionali per sensibilizzare soprattutto le famiglie su questo problema. Prevedere misure di sostegno e di rieducazione per quanti sono coinvolti, per i minori coinvolti, sostegno perché purtroppo come dicevo prima alcune azioni di cyberbullismo possono portare anche a conseguenze molto molto gravi e rieducazione dei minori che hanno messo in atto queste azioni. Integrare nei regolamenti, nei propri regolamenti, nel patto di corresponsabilità fra la scuola e i genitori, sanzioni disciplinari che devono essere comunque commisurate a quanto è grave il fatto messo in atto, l'atto di cyberbullismo. Però molto spesso mi rendo conto che in alcune scuole, nei propri regolamenti, non viene citato mai questo aspetto. E poi una cosa che io ritengo fondamentale, prevedere corsi, interventi preventivi ed educativi, perché se noi non spieghiamo ai nostri ragazzi, come dicevo all'inizio, che un'azione di cyberbullismo è un reato, è un reato che anche se io sono, non ho ancora compiuto 14 anni, comunque ha una conseguenza all'interno della mia famiglia, con i miei genitori, con tutto quello che può, oltre a quelle che sono poi i provvedimenti che possono essere presi a livello di scuola. E se noi non facciamo una buona prevenzione, spiegare questi aspetti, molte volte viene un po' preso sotto gamba. A me è capitato molto spesso di parlare con ragazzi e poi di conseguenza anche con i genitori delle scuole, diciamo ma sì, è uno scherzo, l'hanno fatto per scherzo, ma non volevano mica fargli del male. Ecco, c'è questa forma di poca consapevolezza del pericolo che viene affrontato. E poi c'è un aspetto che purtroppo io, nei miei incontri che ho fatto in questi ultimi due anni, è uno di quelli meno preso in considerazione all'interno delle scuole, cioè la nomina del referente per le iniziative di prevenzione e contrasto. La legge prevede che ogni scuola, la nuova legge, quella che abbiamo appena citato, prevede che ogni scuola abbia al suo interno un referente, un referente, un docente referente che deve organizzare prevenzione, incontri con esperti, ascoltare i ragazzi che eventualmente pensano di dover spiegare fatti legati appunto al cyberbullismo, al bullismo. Io cerco sempre di tenere assieme le due cose, cioè l'azione di bullismo messa in atto magari davanti alla macchinetta delle merendine, dai ragazzini più grandi che spingono via i più piccoli per prendere prima la merendina, può essere anche quella considerata un'azione di bullismo. La scuola deve essere pronta ad affrontare questi fatti, queste situazioni e quindi fornirsi di un regolamento molto chiaro su quello che sono le conseguenze alle quali si può andare incontro in caso di episodi di questo genere. È importante però valutare anche il disagio. Io noto spesso che l'azione che mette in atto la scuola non deve essere solo di punizione, non deve essere solo punitiva, ma ci deve essere anche in qualche modo un aiuto affinché questi ragazzi si rendano appunto conto di quanto hanno fatto, di quello che stanno mettendo in atto. Ecco, io direi di uno degli aspetti importanti è nella nuova legge per ciascun minore che sia stato oggetto di azioni di bullismo, la nuova legge permette al minore o ai genitori, quindi al tutore responsabile del minore, di inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet un'istanza per l'oscuramento. Prima giustamente il collega ha detto che questa forma di cancellazione, di diritto all'oblio non sempre è il risultato che magari ci si aspetta, però comunque rimane il fatto che la nuova legge, questo lo prevede, la possibilità di chiedere il blocco e la diffusione in rete di quanto è stato postato, messo nei vari social. E addirittura la legge prevede che se entro le 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgersi al garante per la protezione dei dati personali che, uso il condizionale purtroppo, dovrebbe rimuovere i contenuti entro le successive 48 ore. Proprio nel sito del garante per il trattamento dei dati personali esiste il modulo per la segnalazione e il reclamo in materia di cyberbullismo da poi inviare a un determinato indirizzo che poi è cyberbullismo.it. Direi di vedere un attimo alcuni elementi innovativi, tra virgolette, ma che comunque ci sono. L'importanza di informare sempre la famiglia in caso di situazioni di cyberbullismo. Diciamo che salvo che il fatto non costituisca un vero e proprio reato, il dirigente ecolastico che viene a conoscenza di azioni legate appunto al cyberbullismo, ne deve informare tempestivamente i soggetti esercitanti la responsabilità genitoriale, quindi i genitori, il tutore e quanti hanno appunto questa responsabilità e informarli di quanto loro hanno intenzione di attivare adeguatamente, di come attivare adeguatamente tutte quelle che sono le azioni di carattere appunto educativo e riparatorio. E poi abbiamo una forma che è stata presa da altri casi che è quella dell'ammonimento. Adesso nel caso di una comunicazione di questo genere, come dicevo prima, fatto dal dirigente o dai genitori, in fatto di casi di cyberbullismo, il minore insieme a uno dei genitori o comunque una persona che esercita la responsabilità sul ragazzo, viene chiamato dal questore e gli viene dato, io dico a scuola per rendere la cosa un pochettino più chiara ai ragazzi che mi seguono, il cosiddetto cartellino giallo, cioè una munizione che i ragazzi si portano dietro fino al compimento della maggior età. Chiaramente non va sul casellario giudiziario, non rimane traccia una volta compiuta il diciottesimo anno di età, però è un qualcosa che serve per far capire loro quanto sia importante rispettare gli altri all'interno di queste forme di comunicazioni online. Ecco, io ho cercato di sintetizzare il più possibile quelli che sono gli aspetti giuridici, anche se chiaramente ci sono tantissime altre cose da aggiungere legate a questo aspetto. Quello che mi preme sottolineare è l'importanza che deve avere la scuola all'interno per quanto riguarda l'aiuto e comunque il controllo sui ragazzi. Dicevo prima, la colpa in educando rimane sempre comunque a carico della famiglia, però io mi sto rendendo sempre più conto che l'anello debole di tutta la gestione legata all'utilizzo non solo per quanto riguarda il cyberbullismo, ma proprio all'utilizzo del web in genere purtroppo è la famiglia dove non sempre i genitori si rendono conto di come possa essere pericoloso mettere in mano ai ragazzini di 11, 12, 13 anni strumenti dei quali loro sanno giustamente, come diceva il collega, l'aspetto così tecnico, il saperli maneggiare con tantissima facilità, però non si rendono conto che dietro questi sono veramente degli strumenti a rischio. Il cellulare che usavamo noi vecchietti si mandava il messaggio sms, forse qualcuno si telefonava. Ecco, ecco, adesso un cellulare ha il browser, ha una serie di strumenti, di software che rendono questi strumenti dei veri e propri mini computer e quindi io, la mia sollecitazione è proprio spiegare alle famiglie, e questa la scuola ha un ruolo fondamentale, spiegare alle famiglie come questi strumenti possono essere veramente a rischio. Vi lascio anch'io alcune indicazioni per quanto riguarda la mia email per eventuali contatti se qualcuna ha necessità di chiarimenti e vi ringrazio dell'attenzione e ripasso la parola a Francesco. Grazie professor Rocca, grazie ingegnere Zorro Sbaraglia. Cinque minuti, volevo completare, poi c'è anche spazio per le domande e vi spiegherò anche come richiedere l'attestato che ha bisogno. Si è parlato di normativa, si è parlato di supporto anche dall'autorità, si è parlato di famiglie e di ragazzi, cosa può fare invece la tecnologia? Cinque minuti sotto l'estate. Abbiamo compiuto diciotto anni di storia, quindi siamo comunque diventati maggiorenni. Siamo un'azienda attiva dal 2001, nata prima in Romagna. La nostra base operativa è a Cesena, invece il nostro fisico commerciale, siccome lavoriamo adesso comunque molto anche con l'estero, si trova nel Regno Unito. Flashstart si dedica principalmente al mondo del filtering, della ripulitura del web per scuole, pubbliche amministrazioni e per imprese. Noi oggi con 350 rivenditori a livello mondiale meno male, copriamo circa 81 paesi sui quali siamo presenti. Chiaramente l'Italia, Flashstart è nato in Italia, è nato in una scuola di Cesena per un'esigenza comunque specifica quando viene messa la DSL che è il Serra di Cesena e l'idea nata in questa scuola. Io mi ero diplomato da poco, quasi vent'anni fa, e poi venne fuori appunto questo progetto. Flashstart si occupa di filtraggio di contenuti, di protezione da malware. Flashstart poi gestisce la reportistica in modo che comunque il dirigente scolastico, che l'animatore digitale possa valutare e vedere come viene usata internet. Flashstart anche si occupa del rispetto delle normative, per esempio del GDPR, dove dobbiamo proteggere ma non possiamo chiaramente vedere la singola persona su quali si privata. Ricordiamo che se c'è un qualche illecito in una scuola, come in un comune, come comunque in una PAP, il responsabile è chiaramente il dirigente scolastico, anche l'amministratore di reti, per cui avere uno strumento che filtra, che inibisce l'accesso e anche che traccia chi si collega al sistema, insomma, credo che sia una garanzia che è molto importante. Abbiamo parlato di intrusioni all'esterno, dall'interno, di furti identità e di phishing, ma ricordiamoci che la nero debole, come dice Giorgio Sbaraglia, è comunque la persona. In questo slide ho semplicemente citato due articoli apparsi su Repubblica, ce ne sono comunque tanto, pedopornografia online, è comunque tracciato l'accesso a siti comunque proibiti dalla polizia postale per cercare poi di individuare chi metterete, ma anche chi fruisce. C'è poi il discorso della pirateria, quindi film, canzoni, che molto spesso, senza filtro, vengono scaricati, come da casa, anche per esempio da scuola, oppure anche sul lavoro. Sarò breve. Qui vediamo una maschera, il nostro prodotto cloud, e vediamo quanti siti Fly è stato bloccato in un solo giorno, e in navigazione vediamo siti, accessi a siti di Crack, Crack e Wares, sono dei siti che forniscono codici spesso per utilizzare in modo fraudolento Office oppure Windows. Sono pericolosissimi oggi questi siti, perché, scusa se mi sono intromesso Francesco, perché scaricando questi software che ci permetterebbero teoricamente di avere gratis un prodotto, un software che magari costa centinaia e migliaia di euro, noi scarichiamo un file eseguibile. E dentro questo file eseguibile oggi è abbastanza probabile trovare delle bruttissime sorprese, perché quel file eseguibile il nostro antivirus lo cercherà di bloccare, io dico sempre nei miei corsi, al nostro antivirus verrà il mal di pancia quando lo vede, ma noi lo vorremmo scaricare lo stesso perché magari ci portiamo a casa gratis un software che costerebbe tanti soldi. Oggi, a parte l'aspetto di reatto penale che questo genera, ci sono anche dei rischi informatici, rischiamo veramente di vedere entrare, di aprire noi la porta a un attacco che potrebbe veramente danneggiare i nostri sistemi informatici e quindi anche quelli delle scuole o delle aziende. Poi abbiamo siti per adulti, siti di pornografia, siti di incontro online, siti che comunque ti consentono di trovare un partner nel giro di pochi chilometri e in pochi minuti. Qui invece in questa slide abbiamo l'impatto di malware, botnet e rams, ossia trojan, backdoor e minacce della rete che quasi sempre vengono veicolati tramite mail con dei link che portano a un sito web, che è chiaramente un sito compromesso, spesso a un server che è ignaro a sua volta di questa compromissione. Come possiamo aiutarti per essere pratici? Noi, Flystart è in grado di offrire due linee, linea cloud, la linea che lavora in rete sulla nuvola e invece la linea clients che si installa fisicamente localmente all'interno della rete scolastica. La versione cloud è in genere indicata per le scuole inferiori e per i comprensivi, in quanto con un costo veramente minimo, veramente aggressivo e anche senza bisogno di alcuna configurazione, anche amministrazione, consente subito di bloccare. Le scuole invece superiori, università, le scuole anche inferiori ma più complesse che hanno bisogno di caratteristiche aggiuntive, invece possono contare sulla protezione appliance che lavora chiaramente sull'intera scuola. Su questa griglia vi ho ben invece raffigurato, su questa griglia è una tabella comparativa. Vediamo sulla colonna a sinistra delle caratteristiche, c'è il filtro di navigazione, c'è il report, le blackliste aggiornate, il monitoraggio che sono comprense presenti sia in versione cloud che in versione appliance e poi invece abbiamo dove c'è soltanto il pallino blu, le funzioni che sono invece relegate soltanto alla versione completa che è l'appliance. Quindi il firewall e l'autenticazione, quindi l'utente quando vai a rete deve inserire l'utente il nome e il cognome, chiaramente l'hai il suo login. Vi ricordo che la versione appliance si integra in modo nativo. Quegli ambienti Microsoft Active Directory, cosa vuol dire? Che se avete un servo di dominio Microsoft Windows, gli utenti non dovrete ricaricare ma semplicemente per le startup appliance si sincronizza, li preleva per gestirvi il filtraggio e anche l'assignazione dei privilegi. Così sarà semplice creare diversi profili, per esempio una policy, un profilo è di navigazione per gli studenti, invece un diverso profilo per i docenti. Non è detto che i docenti non debbano essere siedrati perché spesso e volentieri le problematiche vengono appunto dal mondo docente. Perché? Cinque motivi per scegliere flashstart che è ricordo commercializzato in Italia soltanto dai rivenditori. Quindi abbiamo dei partner che sono presenti in tutte le regioni. Si attiva in pochi minuti. Chiaramente flashstart è semplice e intuitivo da gestire. Abbiamo puntato quasi tutto sulla semplicità delle maschere e anche delle procedure di attivazioni. Supportate in Italia da ben 150 partner nazionali per cui troverete nella vostra provincia, se non al massimo nella vostra regione, un partner che è presente e anche preparato e che può visitarvi per offrirvi chiaramente la soluzione flashstart. Siamo a norma completa GDPR e siamo a norma completa con lo statuto del lavoratore. cosa vuol dire? Possiamo filtrare, possiamo proteggere, ma garantiamo la privacy e anche il rispetto che nessuna informazione relativa alla storia dei siti visitati da un singolo utente verrà vista. Il prezzo e le prestazioni sono chiaramente, credo, tra i nostri punti di forza. Bene, per sensibilizzare e anche per convincerli della vita di flashstart abbiamo preparato una promozione per l'evento. Questa promozione vale soltanto per la scuola, per le persone che hanno seguito fino in fondo, è chiaramente comunque un ottimo venerdì oggi. Noi vi offriamo la protezione per la vostra scuola, sia cloud, se preferite la versione di rete, che appliance, se invece preferite comunque la versione che è stata localmente, per tre anni. Pagate soltanto due anni. Viene attivato subito, se volete, da oggi, ma i tre anni oggetto di questo contratto cominciano dal primo settembre in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastica. Chiaramente valida, ripeto, sia su cloud che su appliance. Questa promozione scade il giorno 15 maggio. Per informazioni vi ho lasciato la mail, vi ho lasciato il nostro sito web di riferimento, frester.com, poi c'è anche la sezione scuole all'interno delle delle soluzioni con dei, insomma, case study, anche con degli osservatori e dei materiali specifici sulle scuole. Vi chiedo soltanto un minuto, mentre cominciamo con le domande, se avete comunque domande, per i vostri feedback vi lancio la nostra intervista, quella che insomma è la cosiddetta survey, vi chiedo di compilarla per avere intanto un metro di valutazione sulla qualità del webinar, sui punti di miglioramento e sinceramente, se siete comunque interessati ad avere un contatto senza impegno per capire quanto può costare Freestart per la vostra scuola, oppure per capire semplicemente se Freestart è il caso vostro, in fondo c'è una domanda che vi chiede di lasciare un numero diretto per essere contattati e per poter scambiare qualche chiacchiata con voi su una possibile proposta di Freestart per la scuola. Vi ricordo che entro domani sera arriverà un email col video, con le slide e c'è anche la modalità per chiedere un attestato e di partecipazione, un certificato, ed è venuta partecipazione a questo incontro, a questo corso. Bene, io vi ringrazio intanto, lasciamo qualche minuto per le domande, se avete domande ce le scrivete nella chat, sono domande sia per l'ingegnere Giorgio Sbarai, che ha parlato della parte più tecnica, e invece del professor Mazzaro Loca, che invece ha parlato dell'impatto più pratico sulla scuola e anche sulle famiglie, e anche sull'aspetto più sociale del cyberbundismo. Domande tecniche, invece, posso rispondere io, se mentre ponete le vostre domande, gentilmente, compilate l'intervista, ci interesserebbe chiaramente sapere la qualità del nostro intervento e anche eventuali spunti e riflessioni vostre. Prego, diamo spazio alle domande. Requisiti per il referente interno scuola. Gabriele ci dice, comunque, requisiti per il referente interno scuola del cyberbundismo o del... Sì, beh, deve essere un docente in servizio presso l'istituto scolastico. Non deve avere delle referenze o delle particolari. È chiaro che una volta che la scuola lo nomina, poi ci sono corsi di formazione organizzati all'interno dei vari uffici scolastici regionali per preparare questi docenti ad affrontare il problema. Io, senza occhiali, anche con gli occhiali... Sì, sì, certo. Controllo le domande sul monitor, perché comunque il computer... Ok, comunque ringraziamenti. Domande, temi che volete comunque trattare, domande tecniche? Prego, diamo qualche due o tre minuti giusto per darvi spazio di porre chiaramente le vostre domande. Prego, sto leggendo, stanno scrivendo comunque in diverse persone, ma non soltanto che prendiamo le domande. Ci chiedono se daremo un link per vederlo, certamente verrà inviato entro domani sera, la stessa mail con la quale vi siete comunque registrati, iscritti al nostro corso di oggi. Intanto, mentre rispondete, mentre ponete le domande, vi chiedo di rispondere online a fare la nostra intervista. Sì, il filmato verrà messo su YouTube, giusto? Sì, esattamente. Su YouTube sarà linkato ed anche le slide, i materiali verranno condivisi e verranno comunque distribuiti. Ecco, per domande vi chiedo invece di usare la chat che è presente sotto. Dicono complimenti, candida, grazie. Qualche domanda sulle responsabilità per esempio in tema di scuola, sull'accorgimento invece da fare con le famiglie? Prego, qualunque domanda? Problemi, curiosità comunque tecniche sull'attuazione? Ci dicono? Ok, c'è anche la mail, giustamente comunque la regia sta indicando che c'è anche la mail supportchiocciola flashstart.com per domande più tecniche e sicuramente comunque domande personalizzate. stanno scrivendo, vi chiedo un attimo di velocizzare eventuali domande e anche di rispondere al nostro questionario. Mancano ancora alcune risposte, vi chiedo di formulare online in modo che completiamo questo nostro evento di oggi. Diamo ancora due o tre minuti per rispondere. Dice accorgimenti, Gabriele ci chiede accorgimenti tecnici specifici per il cyberbullismo. Allora, gli accorgimenti tecnici sono legati a quello che è, quello che poi è un po' la mia mission aziendale, cioè creare la consapevolezza sui rischi informatici. Oggi, l'ho introdotto con la slide che ha aperto il mio intervento, oggi l'elemento di vera debolezza è il fattore umano. Gli strumenti informatici per proteggerci esistono, flashstart ce ne propone uno ottimo ad un prezzo tra l'altro estremamente competitivo, ma il problema maggiore su cui noi molte volte ci dimentichiamo di lavorare è la consapevolezza del fattore umano. Io che faccio anche molti corsi all'interno delle aziende, molte volte mi rendo conto che basta pochissimo. L'apertura di un'email, il click su un'email, il click su un link che magari ci promette qualcosa scontato o l'email della banca eccetera eccetera. Ecco, questa l'ignoranza, la non conoscenza di questi rischi genera un sacco di problemi. Problemi che possono portare al fatto che qualcuno riesce a introdursi con degli agenti malevoli, con dei malware nel nostro computer e quindi nei sistemi informatici aziendali o dell'istituto scolastico, come anche a rubarci dati o a rubarci soldi. Ecco, il vero problema è che noi oggi usiamo i computer ma non abbiamo la consapevolezza dei rischi che questo comporta. Se voi andate sul mio sito anche nei corsi che io faccio troverete questo slogan, che è lo slogan che ho depositato anche che rappresenta un po' il mio slogan aziendale, il web è diventato un luogo pericoloso, certo, ma possiamo difenderci. Non è così difficile, purtroppo questa formazione che va fatta a tutti i livelli, dai ragazzini che pensano di saper fare invece sono molte volte degli imprudenti, agli adulti che hanno conosciuto i computer in età appunto adulta e non hanno ancora trovato il modo di entrare in sintonia. Bene, conoscere questi rischi è l'unica maniera, la maniera più importante per evitarli. A nessuno viene chiesto di diventare un esperto di informatica ma di sapere riconoscere questi rischi. Io dico sempre, se noi non sappiamo che passare col rosso a un semaforo è pericoloso, prima o poi ci faremo male. Per guidare una macchina, un'automobile ci fanno dare l'esame della patente, anche per i computer ci dovrebbe essere una formazione. Questo è molto importante. Grazie, intanto che rispondete comunque al nostro questionario, ci sono altre domande comunque interessanti, speriamo di riuscire a essere brevi. Ci chiedo se è possibile comunque riparlare brevemente del diritto all'oblio in maniera più dettagliata. È chiaro che i tempi che abbiamo a disposizione non ci permettono di poter fare un discorso più approfondito. È chiaro che le nuove norme prevedono il diritto di chi riscontra sui social messaggio, comunque posta che possono in qualche modo danneggiare sia il ragazzo che anche la famiglia, perché molto spesso si trovano posta dove vengono fatte considerazioni offensive anche nei confronti della famiglia e in questo caso è possibile chiedere la cancellazione, l'eliminazione di questi post. Io sinceramente ancora non ho un resoconto reale di quanti questi interventi abbiano avuto un esito positivo. Il diritto all'oblio è normato all'articolo 17 del GDPR, è in quella fascia di articoli che vanno dal 15 al 22 che quando noi leggiamo le informative sono i diritti dell'interessato. Quindi il GDPR pone un focus su questo tema. Io ho detto un'altra cosa prima, non ho detto che il diritto all'oblio non vale, ho detto che non possiamo farci troppe illusioni, perché comunque qualche malintenzionato che anche se il post viene tolto, se anche l'immagine sparisce, se l'è salvato, se è fatto lo screenshot, ci potrà sempre essere. Quindi qui come non mai vale la prevenzione. Cioè se noi riusciamo a non fare l'errore prima è sempre meglio perché la rete lascia sempre delle tracce. Poi il diritto all'oblio vale, il diritto all'oblio lo possiamo invocare, ne abbiamo il diritto, come appunto dice il termine stesso diritto all'oblio, ma purtroppo se qualcuno si vuole mettere da parte la nostra immagine o il nostro posto offensivo, razzista o quant'altro, potrebbe riuscire a farlo. Quindi cerchiamo di non sbagliare all'inizio se possibile. Io ho sempre davanti agli occhi, è un po' vecchio chiaramente, il video di Amanda Todd, uno dei primi casi di cyberbullismo che hanno poi portato al suicidio della ragazza. E beh, lei lì, postando immagini a seno nudo, immagini di un certo tipo, ha causato la sua, fra virgolette, morte rispetto a questi aspetti. Quindi è chiaro che quello che dice Giorgio è fondamentale. Il saper gestire in modo corretto i propri profili è il modo migliore per evitare poi di trovarsi in queste situazioni così gravi. Ci chiedono poi, nei casi di ragazzi con situazioni di forte disagio sociale dove la famiglia è praticamente assente, la scuola come può intervenire? In questo caso vogliamo parlare col col DS sicuramente. Beh, la scuola ha, ci sono i cosiddetti servizi sociali, cioè è chiaro che quando si verificano casi di un certo, che toccano questi aspetti, l'intervento della famiglia è fondamentale, dove purtroppo, e nella scuola purtroppo ce ne sono veramente molti, casi dove la famiglia è assente e beh, la scuola si deve in qualche modo, non dico sostituire alla famiglia, ma deve trovare tutte quelle strategie che il territorio mette a disposizione, quindi parlo dei servizi sociali, dei centri di aggregazione, cioè cercare di aiutare questi ragazzi in questa forma e in più c'è sempre il discorso legato all'intervento da parte delle autorità, quindi della Polizia Postale, se il coso è, se il fatto è grave, insomma. Bene, io vi ringrazio, abbiamo continuato anche il tempo che c'eravamo, abbiamo comunque sforato, ringrazio il professor Marcello Rocca, ringrazio l'ingegnere Giorgio Di Paraglia, vi ricordo che i loro contatti, se volete comunque una presenza, un corso, un ampliamento di qualunque tipo, saranno condivisi con il loro materiale, vi ricordo che abbiamo una promozione che scade il 15 maggio per dotare la vostra scuola di Flash Start, sia versione cloud che appliance a vostra scelta, potete filtrare, proteggere, anche autenticare i vostri utenti per tre anni, pagando soltanto due anni, questi tre anni cominciano dal primo settembre, sebbene voi possiate comunque già subito installare il prodotto in rete. domani inviamo le slide e inviamo anche chiaramente la registrazione di questo evento, concludiamo qui.